Bentornati! In tanti mi avete chiesto un parere sul film Maestro, il film che trovate su Netflix che racconta la storia fondamentalmente della vita di Leonard Bernstein, in particolare alcuni aspetti che andremo ora a vedere. L'aspetto che sembra particolarmente interessarvi è, oltre a quello attoriale, oltre a quello musicale, quello della credibilità o meno di Bradley Cooper che dirige come dirigeva Bernstein. E adesso lo vediamo. Il film è veramente una creazione di Bradley Cooper, nel senso che è stato prodotto, scritto, diretto e interpretato da lui. Quindi più di così non poteva fare. E racconta la storia della vita di Bernstein in una maniera che ha la pretesa di essere piuttosto affine a quella che è stata la realtà dei fatti. Io dico sempre un film è un film e non è un documentario, per cui non dobbiamo pretendere dal film il rigore della precisione storica che ci aspetteremmo da un documentario. Ciò nonostante è indubbio che quando si tratta di un qualcosa di biografico e neanche vagamente riferito, ma proprio con nome e cognome, credo che sia giusto che il film abbia, quanto più possibile, un'aderenza con la realtà storica del personaggio che sta raccontando. Il film quindi racconta la vita e l'ascesa, la carriera, ma soprattutto la vita personale di Leonard Bernstein. Forse il musicista più straordinario del secolo scorso, perché era un eccellente compositore, uno straordinario direttore d'orchestra, un bravo pianista e anche un aspetto che in molti ignorano, cioè lui era un bravissimo intrattenitore e divulgatore musicale. Cioè lui ha fatto per tanti anni, per più di dieci anni, dei programmi televisivi in cui spiegava la musica classica fondamentalmente, la spiegava al grande pubblico e ha avuto in questo senso un ruolo divulgativo straordinario. Oltre a questo tutte le qualità musicali che abbiamo prima elencato. Il film paradossalmente si sofferma più sulla parte personale che su quella musicale della carriera. Tant'è vero che la musica è relativamente poco presente nel film, cioè tutta la musica, diciamo, della colonna sonora è fatta da musiche di Bernstein prese da vari suoi lavori, lavori sinfonici, lavori sacri, lavori cinematografici e qualcosa di teatrale. Mentre tutta la musica diegetica, quindi quella che Bernstein suona o dirige nel film, è tratta da composizione di Bernstein o di altri autori che lui aveva diretto. A riprovo di quanto la funzione e l'importanza della musica di Bernstein siano relativamente poco presenti in questo film, c'è il fatto che West Side Story, il suo più grande successo, che ancora dopo tanti anni è ancora rappresentato in tutto il mondo, viene appena appena sfiorato dalla narrazione. Per cui si vede la carriera, si è fatto questo, ma insomma non c'è un momento in cui si vede, che so, il trionfo o il debutto dello spettacolo. Né tantomeno si affronta il momento in cui lo stava scrivendo. Perché tutto sommato, anche se l'atto compositivo è presente nel film, cioè si vede spesso lui che scrive, più che altro la narrazione è più sulla sua vita, sul suo rapporto con la moglie, Alessia Monteallegre, con le figlie e con tutta la gente che lui frequentava. La somiglianza è abbastanza credibile, Bradley Cooper si è fatto mettere appositamente una protesi per aumentare un po' il naso. Ha quella voce molto bassa e anche molto gutturale che aveva Bernstein, io ovviamente il film l'ho visto in inglese, vi assicuro che la voce è molto molto simile a quella che era la voce di Bernstein. Il problema è che forse, presumo io, a causa della protesi al naso, Cooper ha sempre una voce perennemente nasale, come se fosse sempre perennemente raffreddato. E questo invece ovviamente non c'era nella voce originale di Bernstein. Inoltre ha praticamente la sigaretta in mano per tutto il film. Forse solo Robert De Niro in Casinò ha fumato di più nell'arco di un film. Quindi dicevo, più che la parte musicale, nel film viene spiegato il personaggio, e in particolare il rapporto con la moglie, tante l'omosessualità di Bernstein, o quantomeno la sua bisessualità, insomma che negli anni era più o meno chiacchierata, più o meno vociferata, poi invece più avanti verrà, come dire, ufficializzata. Diciamo che il film induggia particolarmente sulle varie relazioni che Bernstein ebbe con una serie di altri musicisti, o assistenti, o qualche allievo, o altri personaggi del suo mondo. Non viene fatto invece alcun riferimento a eventuali avventure extraconiugali con altre donne. Nel film, ma anche nella realtà storica, la moglie era perfettamente consapevole della sua natura, del suo orientamento sessuale, e apparentemente lo aveva accettato, insomma, se lo faceva andar bene. Tanto è vero che restavano sposati 25 anni ed ebbero tre figli. Però diciamo che dal punto di vista del personaggio c'è sempre questa oscillazione, tra questa esuberanza eccessiva e, in certi casi, perfino ostentata, e degli aspetti più oscuri del suo carattere, forse anche una strisciante depressione che ogni tanto fanno capolino nella narrazione del personaggio. Quindi un personaggio pieno di vita, pieno di esuberanza, pieno ovviamente di invenzioni musicali, con una vita incredibilmente attiva. Immaginate perennemente in viaggio a dirigere e a suonare con le più importanti orchestre del mondo, cosa che evidentemente non favorisce mai nessun tipo di matrimonio, insomma, ecco, quindi poi ovviamente la distanza era poi anche un'occasione per lui per avere le sue relazioni extracognugali. Ma veniamo all'aspetto che più vi interessa. Come dirige Bradley Cooper? Allora, ci sono due punti nel film in cui lui, che ha preso e si vede lezioni da un coach per parecchio tempo di direzione, in cui lui praticamente dirige. C'è una parte molto breve all'inizio che praticamente racconta la storia vera, storicamente vera, di quando Bernstein, poco più che ventenne, sostituì all'ultimo momento Bruno Walter in un concerto a New York, senza prove, e niente, poi questo concerto fu un grande successo e fu l'inizio della sua straordinaria carriera. Questa, come dire, la pulizia direttoriale è la parte più brutta, nel senso che dà un attacco veramente brutto, non credibile, non sbagliato dal punto di vista tecnico, l'orchestra attacca per puro miracolo e se fosse stato veramente così, dubito che l'orchestra avrebbe attaccato con precisione. Però questo qua è proprio veramente un inciso di pochi secondi, perché lui nel film dirige relativamente poco, i suoi successi vengono più raccontati che mostrati. Però al netto di questo c'è poi una scelta ben precisa, più o meno a poco più di metà del film, quando lui dirige per lungo tempo, cioè stiamo parlando di oltre cinque minuti, la seconda sinfonia di Mahler, e la dirige con una scelta di Cooper, il regista, molto coraggiosa, e molto pericolosa, con un lungo piano sequenza, quasi ininterrotto in questi cinque minuti. Cos'è il piano sequenza praticamente? È quando la camera ti inquadra e non stacca mai, per cui non vengono montate più riprese, per cui magari quel gesto che è venuto bene viene tenuto e quel gesto che è venuto male viene tagliato e viene aggiunto un'altra ripresa, da un'altra angolazione, che magari è riuscita meglio. La macchina non stacca mai l'inquadratura, cosa che come potete ben immaginare, ha voluto dire per lui, essere in grado di dirigere questo pezzo di cinque minuti, questa sinfonia di Mahler, in maniera credibile. È ovvio, insomma l'orchestra non l'ha diretta lui, questo è evidente. Abbiamo quindi due domande da farci. I movimenti che fa sono coerenti con la direzione di quella sinfonia? Uno e due, ma Bernstein dirigeva veramente in quella maniera? Allora dal punto di vista della credibilità, del gesto, è stato fatto un buon lavoro, un lavoro credibile. Per cui dal punto di vista strettamente tecnico, diciamo che la performance di Bradley Cooper sta in piedi. E se ci pensiamo alla storia del cinema, è piena di esempi di attori che hanno simulato di suonare uno strumento che non sapevano suonare. Mi viene in mente il film Rhapsody, un film degli anni 50-60 con Vittorio Gassman e Elizabeth Taylor, in cui Gassman fa la parte di un famoso solista di violino e quindi per buona parte del film lui suona il violino. Chiaro che non è lui a suonare quello che noi ascoltiamo, però le mani sono le sue e quindi è evidente che per diversi mesi aveva preso delle lezioni, quantomeno non per suonare il violino, ma per muoversi in maniera credibile sul violino. Ecco, Cooper fa un qualcosa del genere, per cui dal punto di vista tecnico quello che fa sta in piedi. Non vi voglio dire che sia tutto ineccepibile, però sta in piedi. Ma il punto più interessante è la sua imitazione di come Bernstein dirigeva, che è la cosa più difficile, se vogliamo. Per non dire impossibile, perché Bernstein comunque aveva una direzione molto personale, anche molto esuberante, gigioneggiava sicuramente in tante occasioni, ma si poteva permettere questo ed altro. In questo senso, la performance dell'attore Cooper è apprezzabile, perché probabilmente neanche un direttore d'orchestra potrebbe dirigerla esattamente come dirigeva Bernstein. Cioè, se domani mi chiamassero a fare la seconda di Mahler, io, insomma, che l'avevo studiata tanti anni fa, mi rimetterei a studiarla e domani mattina sarei pronto a dirigerla. Ma dirigerla come la dirigerei io, non come l'avrebbe diretta Bernstein, imitando i suoi movimenti e la sua gestualità, che appunto era molto personale. Questa cosa sarebbe, credo impossibile, anche a un professionista farla identica. E quindi questo aspetto cosa comporta in ultima istanza? Il fatto che, nonostante l'ottima performance attoriale di Brady Cooper, c'è qualcosa che risulta sempre parodistico in quello che fa nella sua gestualità, anche nella mimica facciale, insomma, nelle cose che poteva fare Bernstein perché era Bernstein. Chiunque altro al mondo risulterebbe ridicolo a fare quelle stesse cose. Ecco perché, nonostante, ripeto, lo sforzo attoriale assolutamente da elogiare e da apprezzare, io qualcosa l'avrei sforbiciata qua e là. perché imitare una tale esuberanza e una tale gestualità e una tale mimica facciale rischia di scadere nel ridicolo o nel parodistico se preferite. Detto questo, il film vale sicuramente la visione per cui guardatelo, lo trovate su Netflix e dato che tutta la musica che c'è sul film, non quella di Egetica, ma quella della colonna sonora, è musica di Bernstein, credo che sia l'occasione di ascoltare delle musiche che probabilmente non conoscevate e che sono state sincronizzate sulle varie immagini del film alla fine fine con un buon risultato finale. Anche se si è scelto palesemente di non far ascoltare musiche particolarmente famose ma a maggior ragione è questa l'occasione di riscoprirle o di scoprirle in certi casi. Questo era il video sul film sulla vita di Bernstein. Se volete che facciamo un video più specifico sulla figura di Bernstein come direttore, che è un video specifico su di lui, scrivetelo nei commenti. Per il resto quello che dovete fare lo sapete benissimo, dovete iscrivervi al canale come? Cliccando qua. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.